Una mera creazione di se stesso. Grazie all'insegnamento dei maestri, Angelo apprendeva molte verità e così era per altri membri del gruppo di studio che si erano innamorati di quella saggezza superumana perché permetteva intuizioni altrimenti irraggiungibili. Quando ad esempio Angelo lesse il brano che segue giunse a intuire come l'uomo sia una mera creazione di se stesso. Commento La realtà magica attraverso Jane Roberts mediterranea Potrei dire che siete tutti un divenire di voi stessi perché modificate creativamente le configurazioni cellulari. Quando il destino sembra dipendere da processi ereditari, per esempio, si mette in atto la trasmissione di dati provenienti dai credo e dalle opinioni che mandano segnali ai cromosomi. Producono, diciamo, immagini del sei miniatura che si riflettono nelle cellule. In molti casi queste immagini possono essere alterate ma non mediante la vostra tecnologia.